Il Buondio ci ha fatto arrivare in questa terra, anche su questo lato della Sicilia, da diversi anni. Avevamo chiesto un modo per accogliere dei disagiati senza tetto e avete risposto veramente grandemente approvando un progetto. Grazie al Sindaco è un esempio grande che state dando l'istituzione, dal Sindaco, ecco la Giunta, ma anche la scuola, le forze dell'ordine, il Vescovo, la Chiesa. Testimonianze a questi giovani che possiamo ancora farcela. Castella Mare Trapani, la Sicilia, questo è il lato veramente bello e profondo dove dobbiamo non fermarci, non perdere la speranza, ma dobbiamo unire le forze insieme. Spero che questa pietra che si sta mettendo oggi per i poveri, per la missione, sia una cosa molto bella, ma naturalmente quello che ho fatto io è niente, perché è quello che faranno i cittadini per realizzare tutto questo che è importante.